bella ragazzi e benvenuti a un nuovo video torniamo con i pack opening in compagnia di giorgio oggi andiamo ad aprire un box che personalmente a tutti e due ci è piaciuto dove abbiamo trovato il god pack e speriamo di trovarlo anche in questo e per chi non lo sapesse shiny b star box che comunque inizia a essere abbastanza adattato molto molto divertente da aprire e quindi direi di andare con l'apertura dei pacchetti visto che speriamo nel god pack perché comunque sia averne già trovato uno non esclude il fatto di poterne trovare altri quindi questo ragazzi box diciamo speciale con sono dieci pacchetti con dieci carte vediamo primo pacchetto clefable ma questo è clefami lo so fossile impedim figlia mosche sanaconda la nostra shiny che è un pellicano di cui non ricordo assolutamente il nome quindi questa possiamo metterla già nella busta la olografica la olografica che è l'evoluzione di flappol eccetera eccetera ci abbiamo una carta speciale sotto ok allora altra oro tapulele e la prima vima che è un bellissimo ditto shiny mi sa che già ci siamo giocati quello il più bello la più bella cosa e potevamo trovarci e sotto un hunter con l'olografico particolare del set quindi buono un bel pacchetto peccato che a posto del ditto sarebbe stato bello trovarci un bel charizard però vabbè oppure anche una bella gold che in tutti gli pacchetto peccato fatto non ho mai trovato una bella gold ci siamo allora ghastly ulu per col funghi garbodor altro shiny questo è corvi night shiny la olografica c'è un coglione le fable cinderace e l'apras v max che già abbiamo trovato anche in passato e sotto l'olografica e la tazza di sbobba cuxia allora terzo pacchetto siamo pronti solita carta pubblicitaria garbodor eldegoss antenne fada hunter grid and la polo che è un bel da cian altra olografica un bel dragazolto sotto una bella di e acciaio da cian e da cian v e sotto da cian ci abbiamo un cincino mincino vabbè qualcosa con cino lui non mi ricordo mai il nome evoluzione corbinite wiki bicicletta mincino cincino la pol o qualcosa comunque della sua evoluzione amazing rare chiogre e sotto una bella v max psico che è un bel dragazolt no dragapult e trainer la roma la roma allora andiamo con il quinto pacco dedenne paderman non mi ricordo energia buio dragazolt specchio d'acqua upa toxicitri toxicitis vabbè altra v zavazenta questa volta e sotto di lui c'è un toxicit qualcosa del genere pokemon che non so il nome koffing toxic boh mi ricordo tavolozza senti scorch sui cune uff copper già altra v ed è un bel arca in the d yes probabile e sotto un barro cuda olografico tazza tegliera udo questo non mi ricordo assolutamente il nome per sec sq altra v max sembra che c'è una foglia però è drago ed è toxicitri toxicitri e sotto di lui c'abbiamo un ciutol olografico carino questo non ce l'avevamo questo è zig zagoon no non mi ricordo cacchio evoluzione sotto boltund olipo coi guanti palla di pokeball or beetle altra shiny che è uno gnome gnome qualcosa del genere lui è toxic rock jengar olografico e sotto jengar c'è l'elettro ed è un altro toxicitri v questa volta quello prima era v max e sotto il gufo rooflet roglet e lui non mi ricordo allora coiattolo indidi energia fuoco drabna dico duraludon marni la vi ragazzi come ho detto c'è sempre ed è un ditto vi quanto è brutta sta carta veramente brutta non mi piace per niente e sotto un palloncino pubblicità yamsk un uccello di marino morpico lui mostro barro kuda casa allenamento orangoru non è c'è la ripartizione wizzing di galar questo è con la versione col cappello coi baffi e acqua questo è lapras lapras il milionesimo lapras sotto lapras c'è un sanaconda holo quindi bah stavolta diciamo se non per le shiny se non per le shiny trovate siamo partiti bene e siamo finiti con senza benzina però come al solito ragazzi no forse potrebbe andare no dai dai alla fine un ditto shiny vediamo comunque adesso piccolo recapino quello solito finale ripeto se non fosse stato perché adesso non mi ricordo il numero esatto di shiny possono trovare all'interno di questo box e comunque abbiamo trovato una due e tre shiny poi lapras adesso sul finale ditto toxicity b zama zenta zachan b lapras b max dragapult b max toxicity b max indi dv e la più diciamo a livello di rarità è questo ditto b max shiny e quindi nulla ragazzi per questo video diciamo che abbiamo finito o come al solito ragazzi spacchettare divertente ma con questo pack opening sarebbe stato avremmo potuto trovare carte più più belle più belle e anche a livello di valore del valore più alto però questo è quello come quella comandata io spero che il video vi sia piaciuto vi invito a iscrivervi al canale e lasciare like io sottoscritto e mio fratello giorgio vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video bella ciao